Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno hanno apposto i sigilli di sequestro ad un noto impianto di trattamento di rifiuti speciali ubicato nel comune di Battipaglia, la Sider Group di Via Bosco II. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa ambientale disposta dalla Procura della Repubblica di Salerno, i militari hanno ispezionato l'impianto di trattamento rifiuti, accertando che i responsabili ne attuavano l'esercizio in violazione ai provvedimenti autorizzativi concessi e per aver scaricato acqua e refluo industriali contaminate da rifiuti in assenza di autorizzazione. All'esito degli accertamenti di diritto, da cui è scaturita la denuncia dei responsabili su richiesta concorde della Procura della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha emesso un decreto di sequestro preventivo dell'intero opificio, onde precluderne la disponibilità all'indagato ed interrompere l'illecita attività.